Si rinnovano le cariche sociali all'Automobile Club di Teramo ed è tempo di bilanci. Il presidente uscente, Vincenzo Di Gianluca, sottolinea come Laci Teramano sia diventato in questi ultimi anni il più grande d'Abruzzo per numero di soci e per servizi offerti attraverso le delegazioni territoriali, un'eccellenza riconosciuta in ambito regionale. Otto anni di presidenza a Laci, quali sono stati i risultati più importanti raggiunti? Innanzitutto voglio sottolineare che noi abbiamo continuato quella che è stata la gestione del professor Sorgi che si è sempre contraddistinta per economicità e trasparenza nella gestione ottenendo grandissimi risultati. Noi siamo uno dei pochi Automobile Club in Italia che è riuscito ad acquistare la propria sede. Per quanto poi riguarda la gestione vera e pro abbiamo sette stazioni di servizio che danno lavoro ad altrettante imprese a conduzione familiare. La gestione sono 15 anni che è positiva. Il primario compito dell'ente è quello di offrire servizi ai soci e noi questi lo facciamo tramite le delegazioni e abbiamo il maggior numero di delegazioni in Abruzzo. Poi altro compito primario è quello dell'educazione stradale, sicurezza stradale e per questo noi ogni anno andiamo nelle scuole con corsi teorici e pratici e alla fine premiamo gli studenti più meritevoli. E poi abbiamo anche come obiettivo quello di incrementare le manifestazioni sportive. Il 28 aprile si voterà per il nuovo presidente, c'è una lista concorrente. Che programma ha questa lista? Il programma io non lo conosco perché non è stato reso noto. Non so nemmeno quali sono le critiche che muovono all'Automobile Club di Teramo. Voglio ripeterlo, noi costituiamo un'eccellenza, non solo in Abruzzo perché siamo il più grande Automobile Club d'Abruzzo sia in termini di soci che in termini di portafoglio SAR, ma siamo un'eccellenza a livello nazionale. Tra i risultati più rilevanti che l'Automobile Club di Teramo può vantare è quello di aver raddoppiato gli sforzi per l'educazione stradale nelle scuole della provincia di Teramo contribuendo a far scendere il tasso di mortalità e di incidenti sulle strade. Per il nuovo esecutivo dell'ACI di Teramo si voterà il prossimo venerdì 28 aprile.